Oiku e Ayatze continuano la loro guerra dentro casa, senza esclusione di colpi. Nel frattempo, Seima rivela a Meti di aver scoperto che Meme è il vero padre di Ayatze che vuole usare quest'arma contro di lui. Burku pensa che Emre abbia un amante quando lo vede in lontananza con sua sorella, Deniz. Grazie a tutti.